Buongiorno e benvenuti a tutti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 29 maggio. Allora intanto voglio subito ringraziare tantissimi che ieri sera ci hanno seguito a Matrix Prime, a Matrix in prima serata, abbiamo avuto un risultato eccezionale, quindi fatemi fare un piccolo saluto a tutti quanti voi che ieri sera non avete fatto proprio le ore piccole, ma comunque ci avete tenuto compagnia fino alle 11 e mezza e ci avete seguito così numerosi. Cosa è successo? Devo dire che sui giornali di oggi, se voi aveste visto tutti quanti Matrix ieri sera, avreste preso tutti gli elementi e i dettagli che ieri sera abbiamo squadernato e lì le posizioni sono molto semplici e cioè quella che Cottarelli, il Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella, non avrà con grande probabilità la fiducia alle Camere, è evidente questo visto che come si vede oggi su tutti quanti i giornali Di Maio e Salvini non ci pensano proprio a votare la fiducia a Cottarelli, ma neanche Forza Italia ci pensa a dare la fiducia a Cottarelli, quindi diventerà un governo mai nato, un governo balneare si diceva un tempo, il punto sostanziale su cui tutti i giornali oggi si interrogano è quando si andrà a questo punto al voto. Nei giornali ci sono ovviamente i soliti commenti un po' sarcastici nei confronti dei cosiddetti peones, perché sarà la prima volta che i peoni, i cosiddetti parlamentari semplici, quelli che non hanno grande visibilità in televisione, si troveranno dopo 4-5 mesi, dopo aver vinto il biglietto della lotteria, dopo 4-5 mesi a doverlo buttare nel cestino perché dovranno dimettersi e dovranno rifare campagna elettorale. Ieri ho incontrato Paragone nei corridoi, Gianluigi Paragone nei corridoi di Mediaset che ha detto ma io sono contento perché è la mia acqua fare la campagna elettorale e mi diverto moltissimo. Non so se questo può valere per tanti altri parlamentari di tanti altri partiti. Oggi i giornali notano una cosa fondamentale che mi ha detto ieri Di Maio in trasmissione e cioè che per il Movimento 5 Stelle improvvisamente, dico io più che improvvisamente, esattamente nel momento giusto, si dimentica il divieto del terzo mandato. Di Maio l'ha spiegato, siccome questa legislatura è iniziata ma non c'è un governo, non si può considerare secondo mandato e quindi tutti quanti i candidati eletti del Movimento 5 Stelle e soprattutto un terzo degli attuali eletti che è al secondo mandato potrà ricandidarsi. Questo c'è sui giornali di oggi, ciò vuol dire che è stato cancellato di fatto, nella sostanza quello che loro avevano stabilito in maniera decisissima sul loro statuto. Cosa succede quando si va a votare? Oggi sui giornali c'è scritto tutto il contrario di tutto. C'è qualcuno che addirittura dice ad agosto. È ovvio che ad agosto non può avvenire un voto, nonostante il governo non abbia la fiducia, quella di Cottarelli potrà comunque fare la cosiddetta ordinaria amministrazione anche senza fiducia. Il voto, secondo i diversi analisi dei giornali, potrebbe avvenire tra il 9 settembre e molto più probabilmente tutti quanti puntano al 7 ottobre. Quando pensate al voto dovete pensare alla campagna elettorale precedente e soprattutto oggi, come notano i giornali e fanno notare molto bene il Corriere della Sera, oggi ci sono i tempi tecnici che sono tra 45 e 70 giorni, mi sembra i 90 giorni, adesso dico male, ma il vero tempo tecnico per sciogliere le camere e andare alle elezioni sono 60 giorni, visto il regolamento per il voto degli italiani all'estero e quindi 60 giorni, 60 giorni vuol dire che si dovrebbero sciogliere le camere il 29 di luglio per poter andare a votare il 7 di ottobre. Certo si potrebbe fare 45, ma 45 non è permesso dai regolamenti della Commissione degli italiani all'estero, staremo a vedere se può essere e come verrà cambiato questo regolamento. Sì, ieri Mughini era inferocito, Patrizia ce l'aveva contro tutti quanti i giallo-leghisti, molti mi hanno criticato su Mughini, ma mi sembra che in una polifonia di voci ci voglia esattamente anche quello che critica i giallo-leghisti, se no che cosa facciamo? Altro elemento interessante è l'intervista di Giorgetti oggi sulla Corriere della Sera, che dice che, contrario all'idea di richiedere l'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica, dice che è una grande operazione di bandiera, ma nella sostanza non ha molto senso. In questo è l'unica piccola differenza che c'è oggi tra Lega e Movimento 5 Stelle, che invece mi sembrano allineate su tutto. Tra l'altro Giorgetti dice, ha una domanda molto precisa, Giorgetti è il braccio destro di Salvini, l'uomo che veniva considerato molto vicino anche all'ala berlusconiana, Giorgetti dice che non so se ci presenteremo uniti come prima. Io penso di capire dai giornali di oggi, ma anche dall'intervista che ho realizzato ieri, che è molto difficile che il centrodestra si possa presentare nei collegi come se presentato per il 4 marzo. Certamente i pesi comunque verranno ridiscussi tra Forza Italia e Lega, ma la vera tentazione, oggi l'ha esplicita l'Istituto Cattaneo sui giornali, è che se Lega e Movimento 5 Stelle dovessero fare un accordo anche di desistenza, cioè dove si candida il leghista, non si candida il rappresentante del Movimento 5 Stelle, ecco, se dovessero fare un accordo di questo tipo, Lega e Movimento 5 Stelle, cioè mantenendo il contratto di governo anche come contratto di alleanza politica, e ci sono già 3-4 comuni in Italia in cui i 5 Stelle non si sono presentati perché si è presentata la Lega, ecco, se dovessero mantenere questo accordo avrebbero, secondo l'Istituto Cattaneo, la bellezza di 219 seggi su 232 dei collegi uninominali della Camera, il che vuol dire che con l'attuale legge, quella che non dovrebbero neanche cambiare, che loro trovano una porcata, se si mettessero d'accordo Salvini e Di Maio avrebbero il 90% dei seggi uninominali, certo, poi c'è due terzi di seggi che vengono attribuiti con il sistema proporzionale, ma lì, con prepercentuali che si attribuiscono a Lega al 25% e a Movimento 5 Stelle intorno al 30%, diciamo che Lega e Movimento 5 Stelle, secondo questa analisi dell'Istituto Cattaneo, potrebbero addirittura avere due terzi del Parlamento se sondaggi e legge elettorale non cambiassero nelle prossime settimane. Ve la faccio breve, oggi gli ultimi ad essere interessati al cambiamento della legge elettorale sono Lega e Movimento 5 Stelle, che perché con l'attuale legge fanno un mazzo così a tutti quanti. Credete che si possa cambiare la legge elettorale? Io penso che si andranno alle elezioni prima possibile, almeno a sentire loro due, altro che leggi, come ci hanno detto ieri in televisione e come dicono oggi sui giornali, da fare nelle camere. Sarà impossibile fare delle leggi in una camera in cui il governo non ha la maggioranza. Questo è il mio personalissimo punto di vista che oggi è un po' sparso su diversi giornali. Ma quello che conta purtroppo non sono tanto queste nostre alchimie politiche, ma è quello che sta succedendo sui mercati. La gente odia i mercati, i mercati in realtà sono la democrazia dell'economia. Se non ci sono i mercati ci sono le oligarchie. È chiaro che qualcuno dice che i mercati sono oligarchici, ma alla fine quando gli italiani devono pagare 1.900 miliardi di titoli di Stato, 1.900 miliardi di titoli di Stato, è come se noi avessimo contratto un mutuo noi italiani, non i politici. I politici hanno fatto le leggi, noi li abbiamo votati, ma noi abbiamo 1.900 miliardi, su questi 1.900 miliardi dobbiamo pagare su questo mutuo degli interessi e quindi quando si toccano questi interessi è un grande problema. È come dire che il nostro corpo umano è debilitato e noi ce la prendiamo con il termometro, che sono gli interessi, e lo buttiamo nel cestino. Il termometro purtroppo misura una temperatura e se oggi la temperatura è di 300 punti base sopra alla Germania, possiamo gridare quanto ci pare. Possiamo dire che non è giusto che ci siamo ammalati, non è giusto che oggi c'è la febbre, perché in realtà sei tu che non mi hai dato la sciarpa, quello che volete voi, ma la febbre ce l'abbiamo, chiaro? Oggi i giornali, forse Marco Nato sul Sole fa l'esame più lucido, perché dice che il nostro corpo in realtà, nonostante questa febbre, è un corpo forte, solido, è un paese che esporta più di quanto importi, ha un attivo delle partite correnti, di complesso gli interessi che paghiamo agli stranieri sul nostro debito, del 2,5% del PIL. Certo, siamo cresciuti meno, dice Nato, rispetto agli altri paesi del mondo, ma non siamo la Grecia, non siamo un paese fragile dal punto di vista economico. In realtà il tema del debito, dice Nato, è un tema di fiducia, finché avranno fiducia gli investitori, che siamo anche noi, siamo anche noi, finché avremo fiducia che si ripagherà, noi lo terremo e potrà avere dei tassi di interesse decenti. Fino a quando la fiducia verrà a mancare, per un motivo o per l'altro, come sta mancando oggi, sono cavoli, dice giustamente Onado. Quindi il problema è della credibilità. In questo momento la credibilità nei confronti dell'Italia è pessima. C'è qualcuno che ci specula? Sicuramente sì. C'è qualche cattivone che vuole fare i soldi su questo? Certamente sì. Ma ragazzi, il termometro è quello. E oggi i giornali ne prendono atto, ma quanto ne faranno domani di prenderne atto è niente rispetto a quello che ha fatto oggi, perché oggi i mercati, da quanto mi sembra, adesso vi do gli ultimi dati sui mercati, mi sembrava che fosse addirittura in salita ulteriore lo spread a quota 300. In questo caso bisogna stare molto attenti, perché non si deve attribuire, lo spread fonda 320 punti, ovviamente la borsa è a picco, perché la borsa italiana è fatta soprattutto da banche e quando lo spread si alza le banche ne soffrono moltissimo. Ci sarà da ballare tanto, purtroppo, e non è detto che sia un ballo interessante. Ne parleremo tanto ancora in questi giorni, sia sulla zuppa, sia sul mio sito nicolaporro.it e poi quando e come potrò in televisione. Un caro saluto a tutti quanti voi, se vi è piaciuta questa zuppa condividetela. Ciao!